La sinfonia della mente Immaginate una sinfonia della mente, dove ogni respiro vi avvicina a uno stato di maggiore consapevolezza. Attraverso la meditazione, si diventa padroni della propria mente, formando un forte legame con il proprio io interiore. È come avere un tesoro nascosto, un santuario pieno di tranquillità e profonda saggezza. Qui il tempo non ha presa, e ci si ritrova immersi nella bellezza senza tempo del momento presente. Quando vi liberate dei fardelli della vita quotidiana, il vostro spirito si eleva a nuove altezze. La vostra stessa esistenza diventa un arazzo in tessuto di pace e comprensione profonda. Lasciatevi alle spalle il caos della vita quotidiana, e lasciate che la meditazione vi trasporti in un mondo mozzafiato di scoperta di voi stessi. Abbracciate la quiete, abbandonatevi al vuoto e liberate il potenziale sconfinato che si cela dentro di voi. L'avventura vi aspetta, e potete coglierla. Preparatevi a iniziare un viaggio straordinario che eleverà la vostra consapevolezza, e vi porterà un profondo senso di calma. Preparatevi a conoscere un metodo di meditazione semplice ma potente, che vi guiderà in questo percorso di trasformazione. Innanzitutto, preparatevi trovando una posizione comoda e prendetevi un momento per sistemarvi. Rilassatevi, e lasciate andare le tensioni del corpo. Ora concentrate la tensione verso l'interno, e cominciate a chiudere gli occhi. Fate alcuni respiri profondi, lasciando che l'aria riempia i polmoni, e poi rilasciandola lentamente. Sentite la sensazione di ogni respiro, notando come vi porta un senso di pace e di rilassamento. Mentre continuate a respirare, spostate la consapevolezza sui vostri pensieri. Immaginateli come nuvole passeggere nel cielo della vostra mente. Invece di lasciarvi coinvolgere dal contenuto di questi pensieri, osservateli semplicemente senza giudicarli. Lasciateli andare e venire, come nuvole che fluttuano nel cielo. Come nuvole soffici, i pensieri fluttuano dolcemente, ognuno con il potenziale di qualcosa di straordinario. Prendetevi un momento per godere della bellezza fugace di questi pensieri, mentre danzano e volteggiano nell'ampia distesa della vostra mente. Ma aspettate! C'è qualcosa di magico nascosto tra questi pensieri. Riuscite a sentirlo? Invece di rimanere impegliati nella complessa rete dei pensieri, spostate l'attenzione sullo spazio in cui si muovono. Guardate attraverso la finestra nei territori inesplorati della vostra mente, osservando il flusso dei pensieri senza lasciarvi catturare dalla loro attrazione. Abbandonatevi alla forza magnetica del momento presente, e lasciate che l'universo interiore guidi il vostro viaggio. Invece di perdervi nei pensieri stessi, rivolgete la vostra attenzione allo spazio in cui i pensieri sorgono e si dissolvono. Così facendo, vi staccate dal flusso costante dei pensieri, ed entrate in uno stato di presenza e di quiete interiore. In quelle brevi pause, dove risiedono il silenzio e il vuoto, c'è un mondo che aspetta di essere scoperto. È un luogo dove il cielo infinito incontra il vasto vuoto, invitandovi a esplorare i suoi misteri. Notate i momenti di quiete e di silenzio che si presentano naturalmente. In questi vuoti risiede la vera essenza della meditazione. Abbracciate questi momenti di vuoto, e permettete loro di espandersi. Praticando questo metodo, svuoterete gradualmente la mente dei suoi contenuti, come ricordi, desideri, e aspettative. Grazie a questo processo di abbandono, si crea lo spazio per far emergere la chiarezza e la tranquillità. Lo scopo ultimo della meditazione, è quello di raggiungere uno stato di vuoto completo, un vuoto riempito da una maggiore consapevolezza. Può sembrare una contraddizione, ma questo vuoto è tutt'altro che negativo. È la chiave per sbloccare le vaste profondità della coscienza dentro di voi. Vi libera dalle limitazioni, e vi apre un mondo di possibilità. Con questa liberazione, potete sperimentare la sconfinata estensione della coscienza, trascendendo i vincoli che vi trattengono. Nel corso della storia, a questa realtà ultima sono stati dati i nomi diversi. Alcuni la chiamano, illuminazione, altri ascensione, e altri ancora quinta dimensione. Nonostante la varietà dei termini, tutti indicano la stessa straordinaria verità. Una realtà che supera l'ordinario, e vi trasporta nello straordinario. Immaginate di liberarvi dalle costrizioni della vostra esistenza, e di salire ad altezze inimmaginabili. Sperimentate uno stato di pura consapevolezza, in cui il tempo e lo spazio perdono la loro presa. Immaginate una realtà in cui il vasto oceano della coscienza si estende davanti a voi, invitandovi ad immergervi nelle sue magnifiche profondità. Questo è il viaggio meraviglioso che la meditazione invita a intraprendere. È un'avventura dell'anima, una ricerca per svelare le verità nascoste dentro di voi. Preparatevi a rimanere stupiti mentre svelate i segreti del vuoto, e abbracciate l'illimitata distesa di coscienza che vi attende. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Aho, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.